Buonasera, vediamo il portafoglio della Bill e Melinda Gates Foundation, valore di 22 miliardi, che è un po' modesto ma il nostro Bill con 123 miliardi di patrimonio ha i soldi investiti anche in altri veicoli. Il titolo più consistente in questo portafoglio è Berkshire Hathaway di Warren Buffett, valore circa 10 miliardi, l'hanno ridotto del 10%, quindi ha venduto circa un miliardo il suo wealth manager. Seconda posizione è waste management, quindi trattamento rifiuti, caterpillar, macchinari industriali e agricoli, railway, le ferrovie, comunque si scende abbastanza in fretta sui pesi del portafoglio, Walmart è grande distribuzione, queste non le conosco sinceramente, FedEx e UPS per i corrieri, Schrödinger è l'unica che è stata acquistata e non so di cosa si occupino, qui dice Health Information Services, ovvero servizi per la salute diciamo, 400 dipendenti quindi abbastanza piccola, 100 milioni di ricavi, ma il market cap di 7 miliardi è molto molto importante, prezzo di ricavi 75 per, molto molto elevato, price book 11 per elevato, il price earning neanche lo guardo perché dicono prossimo anno facciamo un centesimo di utile ad azione ma non vuol dire assolutamente niente, ricavi ottima crescita però è comunque molto molto sopravvalutata, adesso vedremo un po', non sono sicuro di questo titolo diciamo, poi abbiamo Apple, Amazon comunque posizione marginale, neanche un per cento in portafogli, le varie liberty di quella galassia lì, ancora su un fang, con Alphabet, poi c'è Twitter, vediamo l'attività come si vedeva dallo schema restrittiva precedente, hanno venduto tutto, prima avevano pure Alibaba, però in posizione sempre marginale 0,74%, qui invece nel terzo trimestre possiamo vedere come hanno aggiunto il 7 milioni di azioni di Berkshire, nel Q2 invece avevano venduto queste azioni di shreddinger, Q1 compravano, Q1 ha iniziato a comprare questo shreddinger, ha iniziato a comprare Apple, Amazon, Alibaba, hanno comprato i fang nel primo trimestre 2020 e poi qui nell'ultimo trimestre hanno iniziato a venderli. Grazie per l'attenzione, se vi va seguitemi sui vari canali, ciao ciao